Invito adesso la professoressa Donatella Caramia, docente di neuromusicologia presso l'università di Tor Vergata, compositrice, medico specialista in neurologia e professore associato di neurologia. La sua relazione ha titolo Neurologia umanistica, applicazioni cliniche e nuove prospettive di integrazione. Vorrei ringraziare moltissimo per questo invito e sono onorata di avere questa audience così vasta, così partecipe e vorrei ringraziare particolarmente le organizzatrici di questo convegno e lo dico con orgoglio perché si capisce la ricchezza dei titoli e dei contenuti che sono stati portati dai miei colleghi precedentemente e anche dovuta a una scelta che forse non me ne vogliano gli uomini in sala, la sensibilità femminile in questo momento ha saputo proprio cogliere nella sua più squisita profondità. Che cos'è la neurologia umanistica? Non si sa, qui ho vattato il titolo perché ho mandato le mie slide per email e probabilmente c'è stato un accorpamento della visualizzazione, comunque la neurologia umanistica si prefigge di incentivare, di riattivare una rinascita della cultura medica e soprattutto della neurologia così al centro di tante polemiche e tanti nuovi orizzonti sostenuti dal progresso che proprio corre, corre, corre delle neuroscienze che hanno indagato e continuano a farlo sempre più finemente, quali sono i meccanismi più squisiti, più sottili, più riconditi, più misteriosi del nostro cervello e quando parlo di cervello, visto che si parla di integrazione in questa mia proposta, in quello che io oggi vi offro, voglio dire che il cervello è una sineddo, che c'è il tutto per la parte o una parte del tutto, quindi il cervello diventa anche sinonimo di noi come interezza, non perché noi siamo tutto cervello, tutt'altro, però perché nel cervello possiamo come leggere il palmo della nostra mano, cioè si delineano quelli che sono i motivi più importanti della nostra poi vicenda esistenziale nella salute, nella malattia, nel grigiore, quello che volete. In particolare proprio per incentivare una nuova visione di quello che può essere una consapevolezza nuova della neurologia, vi porto questa immagine che è un Neuralscape, è un acquerello che disegna, che così prefigura dei paesaggi neurali ad opera di un grande scienziato, il padre dei potenziali evocati uditivi, in particolare Arnold Starr, tutt'ora vivente, 87enne, che dipinge appunto dopo aver dedicato tutta la sua vita allo studio del percorso del suono dall'orecchio alla corteccia e poi di tante malattie neurologiche, tra cui l'Alzheimer. Quindi a un certo punto lui arriva ad avere visioni, ma non come un pazzo visionario, ma come uno scienziato che estrae non più dalla logica, non più dai sentimenti della ragione, ma dalla sua possibilità creativa di visualizzare cosa c'è all'interno del cervello, all'interno di noi, all'interno della nostra psiche. Quindi crea questo genere e incomincia una sua strada artistica e questa è la rappresentazione di quello che lui chiama intimità neurale. Questa intimità neurale poi si freggia, e qui non possiamo apprezzare per bene, di alcuni di queste scritte che denotano anche i suoi pensieri, le sue riflessioni. Quindi è possibile essere un neurologo, affrontare un ambulatorio clinico, avere a che fare con pazienti di fronte a noi, non dimenticando che una parte del nostro cervello, se non la maggior parte, è qualcosa che lavora soltanto per immagini e queste immagini sono quelle che si scambiano tra gli esseri umani. Non sono soltanto delle immagini che rimangono all'interno dell'individuo, ma c'è una fluttuazione proiettiva che da un essere umano all'altro va e addirittura telepaticamente ci suggerisce la composizione di quello che poi diventa pensiero organizzato, razionalità. Non so se si va avanti, come si andrà avanti con questa? No. Così? Benissimo. Quest'altra parola, biofilia, è una parola che amo molto, perché non si può essere medici e non si può essere terapeuti e non si può comunque volere il bene di ognuno di noi della salute se non si ama proprio la vita nella sua totalità. Questa è una nuova consapevolezza che non è affatto nuova, in realtà è antichissima, prima il collega ha nominato Leonardo da Vinci, tanto per citare una persona per tutte e a questo punto bisogna capire che la vera indagine, la vera diagnosi parte proprio dall'idea di cercare qual è il quoziente di felicità della persona che ho davanti a me, di me stesso come medico, come terapeuta perché sostanzialmente ogni atto della nostra vita tende proprio a questo obiettivo, al di là delle possibilità di successo o di sconfitta, quali che siano i mezzi, noi tendiamo alla felicità e attraverso che cosa? Qualche cosa che forse è difficile assumere in una maniera completa e integrare all'inizio della vita o a un certo punto della nostra vita, ma è qualche cosa che va ricercato e questa ricerca è proprio la ricerca della grazia, parola non troppo frequente nell'ambito medico, non so se fino ad oggi, da ieri se vi siete incontrati qualcuno ha parlato della grazia come punto proprio centrale di partenza non è una grazia teologica ma è una grazia che esprime delle qualità tutte umane che hanno a che vedere con la capacità di armonizzarsi. Questo quindi si compone di bellezza, naturalezza, semplicità, logica e questi sono elementi fondamentali che compongono la nostra capacità di rimanere sani quindi la nostra capacità di mettere in equilibrio tutte le sostanze e tutte le molecole che ci compongono e come abbiamo sentito oggi il nostro DNA che poi si trasforma in relazione alle esperienze che noi viviamo e trasforma l'ambiente e l'ambiente trasforma noi in un ciclo che non ha mai fine e non ha mai barriere in realtà perché tutto trasfonde. In questo senso il famoso Gregory Bateson sostiene che proprio la grazia, quella di cui vi ho parlato riflette la necessità di integrazione tra le diverse parti della mente e della coscienza a partire dall'inconscio. Quindi è tra le altre cose molto importante che per pensare a un progetto unitario di salute bisogna pensare a un progetto che tenga conto quali sono i sentimenti che accompagnano la nostra vita in ogni momento, attimo per attimo, quali sono le emozioni che accompagnano i nostri successi, le nostre sconfitte e soprattutto le nostre malattie. Integrazione di primo livello, normalmente sono molto fluida, non dico mai primo, secondo, terzo però so che può essere utile fare una gradazione, cercare di scolpire un po' la nostra memoria proprio perché, non dimentichiamo, di primo livello significa integrare l'idea di corpo-mente. Negli anni 70, forse molti di voi, se non quasi tutti, la statunitense Candice Peart scopre i recettori degli oppiacei nel cervello, nei neuroni. Questa è una scoperta che rivoluziona tutte le neuroscienze, anzi prima di lei non si chiamavano nemmeno neuroscienze, perché che cosa scopre in questo modo? Non soltanto che i nostri neuroni hanno questi recettori e quindi sono sensibili alle sostanze come l'oppio e affini, ma che noi stessi produciamo queste stesse sostanze. Questa rivoluzione copernicana che Candice Peart fa praticamente ci mette nell'ottica di stabilire che noi siamo sensibili agli elementi esterni che provengono dall'ambiente, che provengono dalla natura, che ci fecondano, che ci nutrano, persino che provengono poi dagli altri cervelli. Siamo sensibili a questi perché noi già di fatto abbiamo dentro di noi questi elementi che devono essere presenti e riconosciuti dal nostro sistema neurale. Quindi questo mette tutta la medicina, tutta questa farraginosa macchina della ricerca in una nuova direzione che non può più guardare indietro. Quindi noi siamo, il nostro mondo è fatto esattamente a nostra immagine e somiglianza e innanzitutto noi siamo all'interno di noi stessi degli elementi che si autorispecchiano. Quindi la mente e il corpo non sono degli elementi separati, noi non possiamo essere felicissimi e nel frattempo avere un dolore fortissimo a una gamba e viceversa. L'unità di mente e corpo, se noi la espandiamo in un senso più lato, significa che è vero, noi ci possiamo ammalare perché ci possiamo avvelenare, l'ambiente ci può intossicare, però è vero anche che noi abbiamo una capacità straordinaria che è quella capacità di compensazione di cui precedentemente si è parlato, di poter abbracciare tutte le possibili malevole entità di disturbo e poterle in qualche modo filtrare in una maniera vitale. Quindi è molto importante che questa divisione cosiddetta, diciamo così conosciuta, questa divisione debba essere superata, ma da chi deve essere superata? Dobbiamo conoscerci, dobbiamo sentirci, dobbiamo imparare e non dimenticare mai di avvertire quelle più sottili cambiamenti, vibrazioni all'interno di noi che ci portano a far riflettere su quello che è la nascita del nostro dolore, della nostra sofferenza per poi coglierla nell'altro e far sì che si possa agire per risolvere una situazione. Quindi cosa succede invece di solito, l'abbiamo sentito dal collega precedente, di solito il paziente si rivolge al medico, il medico fa una diagnosi piuttosto approssimativa, salta l'anamnesi, si passa a una terapia e poi tanti saluti. Quindi probabilmente il paziente andrà a vedere un altro medico se le cose non vanno meglio. Il punto è che per guarire, per stare meglio, non si può demandare qualche cosa a qualche di un altro, c'è bisogno di una cooperazione molto profonda, molto stabile, molto ben centrata tra chi sta analizzando la situazione e chi la sta patendo. Faccio un salto indietro, la scoperta di Candice Pert ci porta a valutare quello che è il mondo delle emozioni. Le emozioni sono state sempre molto, molto osannate in termini artistici, letterari, nella musica, nella pittura, nella letteratura, nella poesia. Le emozioni hanno fatto una grandissima parte, sono state sempre riguardate con molta attenzione. Nella medicina le emozioni vengono sommariamente raggruppate in una parola sola, è lo stress oppure l'ansia e c'è una totale cecità nei confronti dell'importanza di queste emozioni. Non perché noi dobbiamo diventare più buoni, più sensibili, più amorosi, o non soltanto per questo, ma soprattutto perché le emozioni segnano il destino di ciascun individuo. Le emozioni sono ciò che caratterizza, sono la struttura lapidea del centro del nostro cervello, del centro della nostra psiche, sono custodite in uno scrigno quasi inespugnabile e con le emozioni non si viene a patti. La rabbia, il piacere, sono due emozioni ma ce ne stanno tantissime, però sono le due emozioni che tutti abbiamo provato e tutti sappiamo che non possiamo fare niente quando noi proviamo la rabbia o quando proviamo piacere. Questa inamovibilità dell'assetto emozionale ci deve mettere in guardia e ci deve riorientare nella diagnosi e nella visione e nell'ascolto di qualsiasi storia clinica che andiamo ad ascoltare. Allora che cosa succede? Questo è il circuito, un circuito molto importante, il circuito del sistema limbico. Il sistema limbico è il sistema dove sono raggruppate tutte le strutture che mediano appunto le emozioni ed esiste una triade inseparabile che sono appunto le emozioni, la motivazione e il piacere. Il piacere lo ha estrapolato dalle emozioni perché è un motore. Voi abbiamo sentito parlare di Parkinson prima e dovete sapere che il Parkinson è una malattia che, molti di voi ovviamente lo sanno, è dovuta alla carenza di dopamina e si manifesta con disturbi del movimento e soprattutto con i disturbi dell'iniziativa motoria. Nello stesso tempo la dopamina è una molecola che determina la possibilità in noi di provare piacere. Quindi iniziativa motoria e piacere sono un binomio praticamente inscindibile all'interno di noi. Questo che cosa significa? Significa che noi dobbiamo incominciare a pensare al piacere come non a un qualche cosa di voluttuario, qualcosa che è un optional nella nostra vita, ma come una necessità per la sopravvivenza. Se noi non proviamo piacere non possiamo vivere di fatto, addirittura potremmo arrivare a diventare catatonici, a non volerci più muovere. Quindi la prima cosa che il piacere determina è l'attivazione motoria. Questo non è soltanto quindi piacere e movimento e motivazione, ma è anche tutta una messa in circolo di questo circuito cosiddetto della gratificazione per cui una volta che questa macchina del piacere si mette in moto e mette in moto addirittura la nostra struttura motoria, determina un fluire di altri elementi fondamentali tra cui la memoria. Per cui memoria, piacere e motivazione sono una triade indispensabile ed è una triade che non può essere manipolata in nessun modo. Quindi noi siamo totalmente basati su questo circuito limbico attraverso il quale c'è un flusso dinamico che ci mette in moto e ci mette nella disposizione di poter vivere e sopravvivere alle possibili sfide. In particolare poi ci sono dei nuclei come la amigdala e il nucleo accumbens che mediano le emozioni sia il piacere che l'aggressività. La amigdala in particolare è implicata nella mediazione dell'aggressività e addirittura voglio dirvi che quando si è aggressivi e si parla la voce non viene più modulata e controllata a livello corticale dai centri del linguaggio e dalle voice cells ma addirittura viene mediata in maniera sottocorticale e l'urlo viene direttamente da un'azione amigdaloidea. Quindi ecco che questo sistema limbico, questo scrigno che abbiamo dentro di noi poi comunica con la corteccia prefrontale quindi ha a che vedere direttamente con la nostra programmazione, con la nostra progettazione e non c'è progettazione che possa essere valida se all'interno di questo programma non ci sia piacere. Quando non c'è piacere noi siamo avvelenati. Quindi avvelenati come intossicati, come affetti da una tossicità che impedisce quindi la vita omeostatica di questo circuito limbico che finalmente le neuroscienze finalmente incomincia a essere considerato nell'ambito clinico e neurologico. Quindi non si può pensare di intervistare, di fare l'anamnesi a un paziente che abbia la sclerosi multipla senza capire qual è il livello di aggressività che questa persona esperisce durante la sua vita, quali sono i tipi di proiezioni e di programmazione che è in grado di fare e così via con il paziente con il morbo di Parkinson e così con l'anoressia e tanti altri disturbi. Quindi la malattia neurologica non può essere analizzata soltanto da un punto di vista sintomatologico come deficit ma deve essere ripresa dall'inizio e deve essere considerata a partire da questo scrigno che custodisce memoria ed emozioni. Tra le altre cose è uno scrigno che si arricchisce tantissimo delle suggestioni artistiche in particolare della musica e poi vedremo. Quindi esiste un sistema dopaminergico. Dopamina come sinonimo non soltanto della sostanza della molecola ma come atteggiamento mentale, atteggiamento esistenziale, atteggiamento propositivo. Si può parlare di personalità dopaminergiche. Che cosa significa? Significa personalità basate sulla capacità di far affidamento sulla circolazione di quella sostanza che è in grado di attivare le nostre ispirazioni e la nostra vita e la nostra ripresa quando noi dobbiamo affrontare un recupero clinico. Vi salto la molecola della dopamina ma volevo dirvi semplicemente che essendo così semplice e così una molecola molto molto leggera e molto agile è evidente che va dovunque e proprio questa sua agilità esprime la cifra della sua importanza. Un po' come l'ossigeno, no? Più sono piccole, più sono leggere e più hanno un grande valore. Questa consapevolezza della dopamina ci mette nella consapevolezza di dover provare piacere. Questo è il punto. Molti di noi sono super bravissimi e siamo tutti animati da un grandissimo senso del dovere, da un grandissimo senso altruistico o più o meno grande ambizione eccetera eccetera. Però il punto è quanto piacere proviamo in queste nostre aspirazioni, quanto veramente autentici siamo perché l'autenticità oltre ad essere un valore etico importantissimo, morale religioso e quant'altro, l'autenticità ha un valore salutistico, cioè più siamo autentici e meno contraddizioni molecolari avvertiamo dentro di noi e più aumentiamo la nostra capacità di poter fronteggiare le sfide esterne, persino quelle dei metalli pesanti ed è tutto dire. Quindi il punto è questo, il punto è capire il piacere. Addirittura abbiamo scoperto che le persone che provano piacere per la musica e la provano fino ad avere la pelle d'oca nell'ascoltare il proprio brano preferito sono persone che hanno una connettività quindi delle comunicazioni all'interno di alcuni nuclei tra cui quelli che vi ho citato del sistema limbico con la corteccia all'interno del cervello. Quindi questo essere sensibili ed essere sensibili al piacere quindi gustare il piacere, entrare nell'idea di provare piacere nella quotidianità della nostra vita diventa un elemento di natura neuroprotettiva. Neuroprotettiva perché aumenta la connettività cerebrale e adesso ci arriviamo. Quindi in particolare la musica. La musica tra l'altro, lo voglio dire perché mi tocca molto molto personalmente, è per me diventata un vettore di diagnosi, di scoperta e di terapia. E' indispensabile capire la musica come viaggia all'interno di noi perché è come un tracciante radiattivo che praticamente ci dà l'identikit di come noi siamo in quel momento. Quindi potersi emozionare positivamente e con piacere nell'ascolto di una musica, una musica preferita, una musica che si ama o anche una musica che si ascolta per la prima volta, dice qualcosa di noi e la ripetizione di questo ascolto determina un aumento delle strade che si connettono all'interno del cervello. Questo per chi è interessato è il lavoro che mette in luce quanto appena detto e queste sono le immagini che fanno vedere i cambiamenti di connettività tra i diversi stadi e cioè prima dell'ascolto e dopo l'ascolto della musica che fa venire la pelle d'oca. Quindi la musica che fa venire la pelle d'oca non è soltanto un qualcosa che ha a che vedere con il famoso sistema neurovegetativo evidente che non è sotto nostro controllo però ha a che vedere anche con un'azione che lascia una traccia all'interno del cervello. Una parola che avete sentito e che adesso ne precederà un'altra è la plasticità cerebrale. Abbiamo capito che il cervello è plastico significa che cambia, cambia, cambia in continuazione come cambiano le molecole dell'acqua nel fiume di Eraclito che scorre e scorre e quando noi ci bagniamo non siamo mai gli stessi nel bagnarci una seconda volta. Quindi cambiano le molecole del fiume, cambiamo noi. E questa è la più grande immagine come analogia che io posso trovare nei confronti del cervello che abbiamo scoperto è veramente sempre pronto a tirare fuori le sue expertise e le sue novità apparentemente dal nulla. Quindi non è già predisposto o forse lo è, comunque noi più lo stimoliamo e più lo possiamo conoscere, se ne possono conoscere tutte le possibilità. Cosa è successo nel nostro laboratorio tempo fa proprio a proposito di musica, a proposito di sinestesie? Abbiamo cercato di capire che cosa succede quindi in tempo reale se è vero che noi cambiamo come ho detto e non siamo mai gli stessi e che la musica ci cambia perché istantaneamente determina l'insorgere di nuove connessioni all'interno di noi emozionandoci quindi facendoci provare piacere mettendo in circolo tantissima dopamina abbiamo provato a vedere nel breve termine cosa succedeva se noi ascoltavamo facciamo ascoltare a delle persone non musiciste una musica da loro amata di un genere prestabilito e cosa succedeva non se noi studiavamo il percorso che andava dall'orecchio al cervello quindi con i potenziali evocati uditivi ma cosa succedeva nei potenziali evocati visivi partendo dal concetto che una musica, la musica evoca o immagini o altre suggestioni e abbiamo visto praticamente che si sono conformati spontaneamente due gruppi un gruppo che amava la musica un po' più melodica, narrativa, cosiddetta narrata narrata come suggestione proprio della sequenza sonora, della melodia, dal canto e un altro gruppo che invece amava della musica più movimentata, più ritmica che determinava appunto un atteggiamento motorio quindi abbiamo visto, non so se qui si può vedere, abbiamo visto i potenziali evocati e abbiamo visto che nei soggetti che avevano anche alcuni pazienti ascoltato la musica da loro preferita più melodica avevano avuto un aumento del potenziale evocato visivo mentre negli altri pazienti che avevano ascoltato e prediletto la musica motoria questo aumento del potenziale evocato visivo non c'era stato ma c'era stato un aumento della eccitabilità corticale che abbiamo misurato con i potenziali evocati motori quindi che cosa ne abbiamo desunto? abbiamo desunto che la musica non solo ha un'azione chimica perché abbiamo visto all'ascolto della musica preferita corrisponde ad un aumento della dopamina circolante ma che è possibile individuare delle tracce di neuroplasticità a breve termine perché l'ascolto è durato 45 minuti e dopo 45 minuti è stato possibile manifestare una differenza significativa dell'ampiezza del potenziale evocato visivo quindi cosa è successo? In realtà stiamo facendo ancora delle congetture e faremo degli altri esperimenti però questa musica narrativa, narrata, ha messo i soggetti da esame in una condizione di attivazione della corteccia calcarina maggiore probabilmente attivata da una sequenza di immagini che il soggetto ha visualizzato fantasiosamente durante l'ascolto viceversa gli altri invece hanno perso la normale inibizione corticale perché non hanno invece mostrato alterazioni in inglese diremmo alteration però modificazioni del potenziale evocato perché si è potenziato di fatto è un'alterazione positiva ma hanno soltanto relegato quindi la distribuzione dell'assetto dopaminico nella corteccia motoria con una ridotta inibizione. Dalla dopamina come stato di attivazione dobbiamo passare a un altro argomento che è quello dello stato di assorbimento interno questa è un'altra cosa che normalmente il neurologo, il clinico non considera quanto una persona frequenta questa dimensione della coscienza che cos'è lo stato di assorbimento interno? è quello stato in cui noi lasciamo perdere tutte quelle che sono le connessioni sensoriali e immersi in noi stessi entriamo in uno stato di libertà cogitativa quindi ci liberiamo da qualsiasi nesso logico e sensoriale e ci immeggiamo in un mondo che può essere più silenzioso può essere con delle immagini senza immagini può avere dei disegni, dei colori però è qualche cosa che è molto astratto un po' come la prima immagine che vi ho fatto vedere dei Neuroscape di Arnold Starr cioè è uno stato neurale di ripiegamento produttivo su se stessi cambia il proprio elettroencefalogramma cambiano le molecole che mediano il sistema immunitario cambia il tipo di regime neurotrasmettitoriale durante questo stato di assorbimento noi effettivamente ci rigeneriamo però anche questo dovrebbe essere incluso nello stile di vita non è soltanto importante la dieta, quello che mangiamo siamo vegetariani, siamo onnivoli, siamo vegani i metalli pesanti, la vitamina D e quant'altro e anche quanto tempo noi dedichiamo a questo stato di assorbimento interno che non è ancora meditazione perché non è proprio organizzato è una necessità spontanea che da bambini frequentiamo molto come dimensione man mano durante la crescita siamo chiamati alle tante azioni ai tanti doveri la vita ci vuole sempre desti e pronti e reattivi e quindi questo viene tralasciato però in questo stato è molto importante capire che molte delle nostre migliori risorse per ristabilire equilibri persi sono all'opera è evidente che l'invito della musica l'invito dell'arte, la contemplazione e la meditazione sono tutti fattori che ci portano all'interno di questo che si chiama appunto default mode network e ci sgancia dal suo opposto che invece è quello TPN che è proprio l'attrazione al mondo esteriore e all'azione smisurata abbiamo ancora cinque minuti perfetto integrazione di secondo livello è molto facile ne abbiamo parlato prima integrare la mente con la natura quindi la mente e il corpo e la mente con la natura e in questo senso di nuovo l'immaginazione come bisogna ritornare a considerare come immaginarci quindi non immaginarci con un solipsismo egoico ma immaginarci in un luogo in un luogo che ci suggerisce qualcosa che ci sorprende perché è nuovo perché ci dice qualcosa perché contiene un genius loci del passato o comunque ci deve ancorare nel presente quindi il secondo livello di integrazione è l'integrazione con l'ambiente ma non soltanto con lo spazio con lo spazio-tempo cosa molto importante in questo senso l'arte quindi quell'altra parte del cervello il cervello creativo giocano un grandissimo ruolo quindi avviare all'arte significa arricchirsi significa scoprirsi perché quegli artisti sono quegli eroi che hanno potuto per il loro talento per la loro capacità per la loro genialità portare fuori delle cose che invece in noi dormono il connettoma è l'altra parola importante oltre alla plasticità e la connettomica la nostra cifra attuale noi abbiamo scoperto che quindi siamo fatti in una maniera definita ma questa definizione va incontro a continui cambiamenti che sono le continue connessioni che noi facciamo dovute alle nostre esperienze che si incontrano alle esperienze della vita che incontrano il nostro genoma quindi la nostra costituzione in ogni momento della nostra vita quindi noi possiamo scolpire nuovamente noi stessi a partire dal progetto che siamo però effettivamente il nostro progetto è un progetto chiuso? No, è un progetto aperto prima si parlava di infinito in qualche modo è una valenza difficile da concepire da un punto di vista razionale ma l'infinito lo dobbiamo abbracciare per capire che noi possiamo scolpire noi stessi nel modo che veramente vogliamo e possiamo questo ve lo salto perché ho già parlato del fatto che aumenta la connettività con la pelle d'oca prima invece aumentava la connettività di bambini che erano stati avviati allo studio di uno strumento musicale in nove mesi lo spessore delle connessioni nel cervello era aumentata non so di 20 volte rispetto ai bambini che questo non l'avevano fatto vi ho detto prima della musica non c'è scusate scappa via eccolo non c'è luogo della corteccia e del cervello che non venga visitato dalla musica vedete il corpo galloso la corteccia sensitiva quella motoria prefrontale l'accumbens dal cervelletto alla corteccia visiva ancora un minuto allora passando al terzo alla terza integrazione è quella alla quale tengo di più che quella di abbracciare il mondo perché sostanzialmente noi non possiamo essere manichei e perdere soltanto a pezzi il nostro manicheismo cioè siamo la mente corpo siamo la mente ambiente siamo i medici paziente noi in realtà dobbiamo capire che lo stare bene lo svilupparsi accrescersi creare mantenersi saldi sviluppare la resilienza sopravvivere funziona soltanto se noi siamo coerenti con le molecole che ci compongono dopamina è quella dello sprint del piacere della gioia e poi l'ossitocina che vi dico brevemente quella proprio dell'abbraccio corale quella che noi condividiamo quando allattiamo un bambino appena nato quando siamo in una in una dimensione particolarmente amorosa con il partner quando stiamo tutti insieme a godere di un concerto e tutti amiamo e siamo fan di quella band di quell'autore di quel compositore quindi è qualche cosa che supera la somma l'abbraccio è un fattore di moltiplicazione molto ampio è un amplificatore di quelle che sono le valenze positive oltre che negative ovviamente però quelle negative non fanno parte della neurologia umanistica che oggi vi ho voluto raccontare quindi l'abbraccio ha a che vedere con questi nostri sistemi che sono molto importanti e che sono alla base non dell'empatia molto di più della compassione quindi noi abbiamo questa grandissima possibilità abbiamo questa valenza interna cioè i nostri neuroni noi la nostra psiche l'anima lo spirito quello che volete è predisposto la nostra umanità per dirla con una parola sola è predisposto a provare compassione che è il sentimento più bello perché da quella poi da questa cornucopia che è la compassione possono venire fuori tutti gli altri e che poi hanno implicazioni cliniche molto molto precise ho avuto il piacere di scrivere un libro su Ennio Morricone con Ennio Morricone interrogandolo su alcune cose che riguardano la musica e cercando di capire da dove viene la musica perché in realtà sarebbe facile per tutti noi se noi scovassimo la fonte della musica potremmo andare avanti dritti 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 per la nostra strada perché con una melodia nelle orecchie con una musica nel cuore si va e non è un'enfasi esagerata non c'è circostanza importante della nostra esistenza che non sia celebrata accompagnata e sancita dalla musica quindi c'è un motivo per questo e questa musica conserva il più grande segreto perché da dove viene non si sa e Ennio dice da un altrove profondo che non esiste nella realtà ma esiste dentro di noi e la prossima diapositiva non so se è possibile si può avere e poi finisco abbiamo il video abbiamo un video è stato richiesto in questo modo non so se è possibile e poi Ok. Grazie. 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 Grazie.